La formazione come asset strategico per uscire dalla crisi, mettendo in campo tutte le misure necessarie per rendere effettivamente accessibile il diritto allo studio. Noi abbiamo degli impegni che abbiamo assunto in campagna elettorale e che cercheremo di onorare al meglio, cioè la riforma complessivamente del diritto allo studio e quindi una nuova legge sul diritto allo studio su cui stiamo lavorando, ma una serie di interventi che rendano esigibili i diritti di tanti studenti che per esempio hanno vinto borse di studio che però non sono state mai erogate. Quindi stiamo lavorando di concerto con Lazio Adisu per rendere esigibili questi diritti. Non più una formazione che a volte è diventata nel corso degli anni un po' autoreferenziale, più utile ai formatori che ai formati, ma una formazione che insieme alla ricerca diventano due assi di ricerca, di innovazione per scovare nuove professioni, nuovi modelli di sviluppo, nuove potenzialità di mercato. Il fondo nazionale che finanzia le borse di studio, ha spiegato il vicepresidente della regione Lazio, è stato ridotto del 90%, passando da 103 milioni di euro a 15 milioni di euro. Ora, insiste Smeriglio, sarà necessario sensibilizzare il nuovo governo sulla necessità di puntare sulla formazione.